Ciao a tutti ragazzi, sono Mamma Veri e tu sei... E niente, io siamo Mommy and Family Innanzitutto diciamo la sfida di oggi che chi disegna meglio vince Ma saranno disegni di Halloween Quindi mi raccomando Emanuele, tu sei brava a disegnare ma io anche Però prima di fare tutto questo, che dovete fare, femminili? Iscrivervi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like Ecco, mi raccomando femminili, continuate a seguirci e grazie per il supporto che si date Ehi, Emi Sì? Però, prima di iniziare questa sfida, ti devo dire una cosa Cosa? Molto importante Cosa? Ti ricordi come ci siamo lasciati l'altra sera? Sì Come? Che poi nel prossimo video dicevamo la frase che avevamo tradotto E io l'ho tradotta, Emi Vediamo E ora te la leggerò Stai a sentire Ok Occhio di tritone Ala di pipistrello Un pizzico di questo è una goccia che aiuta te stesso Se usi le cornie di Halloween che tutti possono condividere Che vorrò dire? Non lo so Forse è un messaggio Perché stava nella bocca quindi Può essere che l'ha detto Può essere che lui Vabbè poi ci penseremo la prossima volta Allora adesso andiamo avanti con la sfida Allora possiamo iniziare la zucca di Halloween Ah questo è semplice Non è messo quella paurosa? No perché è troppo difficile quindi è il secondo round Perché ora è il primo Va bene Allora questo è il mio astuccio con i miei colori No no Sono di tutte e due Ah pensavo che ognuno avesse il suo astuccio Va bene Allora vado È normale che no Venga qui bisogna Se no tu c'è il cappello Io sto iniziando eh 3, 2, 1 Via Aspetta mamma Non mi interessa No aspetta ti devo dire una cosa Tu hai il temperino verde e l'astuccio verde E io il temperino rosa e l'astuccio rosa Che già oltretutto è pieno Va bene 3, 2, 1 Via Ma quanti secondi abbiamo per fare il disegno? Non abbiamo Ah niente secondi va bene Però non ci devi mettere una vita 3, 2, 1 Via Insomma una zucca non lo so se è perfetto il cerchio Non si vede Dopo lo facciamo vedere Aspetta posso cancellare però qua sì Perché devo fare Il campo della zucca qui Perché non ti è venuto in mente? No Sì hai visto che lo stavo facendo io No 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 non ti ho visto a te Ma che dici? Poi voterete voi da La bocca è la cosa più difficile Non è vero Voterete voi da casa quello è il più bello Allora Il più fatto Per esempio round 1 Sì ma io sto disegnando E tu sei rimasta indietro eh Round 1 mamma vedi Round 2 mamma Io ho quasi fatto eh Sono al naso Sono al naso Verete io sono al naso Qua si è finito Qua si è finito Come? Guarda che poi dobbiamo colorare Un dente Non c'è neanche bisogno Non abbiamo il tempo di colorare Possiamo fare solo i disegni No no Non coloriamo lui Non ce la facciamo Non ce la facciamo Ci servirebbe una serata Ok io forse ho finito No devi aspettarmi Va bene ti aspetto Posso far vedere il mio intanto? No Non si può Va bene Sbrigati Sbrigati Dai che ti è venuto anche bene Vediamo Questo è il mio Aspettate Ecco che si vede Questo è il mio Metti a fianco il tuo Emi Vediamo Quando scrivete Round 1 mamma veri O Emi Se scrivete Emi Il primo round Allora Votate uno per me O due per Emi Si vede eh Quello di Emi Round 1 Si che si vede Ok Ti è venuta bene Ma forse è venuta meglio Anche la tua forma di zucca Ok Ok Eccola Ok Round 2 È iniziato Io che già l'ho disegnata Quindi Penso che già la so fare un po' Allora Però possiamo anche vedere Da dove inizio? Questa è una zucca paurosa Vediamo un po' Non mi puoi copiare però eh Non ti copio Attanto devo copiare da lì One Allora Two Three Four Aspetta Akira Perché qua Non capisco No aspetta Aspetta C'è qualcosa che ho saltato Secondo me Vabbè Guarda No Guarda Sembra un cilindro No Non lo puoi far vedere E va bene Sembra un cilindro No È brutto Ma perché Dai Perché è brutto Di qua È brutto Davvero un lungo viaggio Io ho finito Ho finito Ho finito ragazzi Io l'ho finita Eccola Io ho finito ragazzi Io l'ho finita Io l'ho finita Io l'ho finita Non la puoi far vedere però mamma È finito Tre Due No No non ho finito Questo è il mio Metti a fianco il tuo No non ho finito Sbrigati Fammi vedere il tuo Ah tu hai fatto anche il nero Io no Il nero di cosa? Io non ho contornato di nero gli occhi No Io ho un punto in più Vabbè metti a fianco Votate uno o due Io sono sempre due Votate uno o due Questo è il mio Io sono sempre due E questo è di Emi Ok Terzo round Scegli un altro disegno Allora Questo è il terzo round Che facciamo? Il vampiro Il vampirello Vabbè il vampiro è stato qui Allora lo faccio così con il foglio di lungo Ma perché questo si è bagnato il mio foglio? Vabbè Tre No Tre Due Uno Aspetta Emi che ti metto a fuoco Via Oh mio dio è difficilissimo Allora Questo pipistrello Questo uomo vampiro Vabbè Lo chiameremo Poi si trasforma in pipistrello Lo chiameremo Come lo chiameremo? Non lo so Per fare la faccia Devo prima fare un peore Prestamente Eh infatti Tipo un cuoricino La faccia di questo vampirino Che poi è tutto carino La faccia è venuta tutta a sgorbia È venuta storta Aspetta Emi Devo rimediare Lo aspetta il cuore che belle scarpe questo papiro io sono ancora sbagliato perché doveva no vabbè il mantello vedete doveva essere più giù io l'ho fatto troppo sopra ma lo puoi già far vedere no 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 aspetta vedi aspetta ma che punto sei tu? a che punto sei tu? ancora la faccia? ancora la faccia? si aspetta vabbè io vado ora così Kira ma che fai questo con la porta? vi faccio vedere Kira aspettate al finisco il disegno vi faccio vedere Kira perché è simpaticissima ecco Kira che praticamente non lo so cosa sta facendo ecco io fammi vedere a me ecco i pistacchi no i pistacchi no i pistacchi no pausa finita torniamo ai disegni ok Emanuele io ho finito io non lo farò vedere no va bene scriverò qui mamma veri a me dalla maglia sembra un pigiama io ho finito raggiz 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 vero no che è finito devo rifinirlo aspetta vuole un colore nero no non c'è neanche un colore a spirito nero qua no no e se lo faccio viola no non si può no non si può fare no si deve colorare come si colora voglio fare i contorni voglio fare i contorni ma qui dentro non c'è niente no aspetta vuole il nero ecco il nero è il nero questo si nero allora devo rifinire i capelli i capelli eccolo ecco è e Emi? Aspetta che la telecamera La telecamera ha avuto un problemino Io sto quasi a buon puto Anch'io? Molto Sì ma tu non hai contornato Emanuela L'ho fatto, ho fatto le ombre Ho fatto le ombre? Oddio non mi dico se sono rimasta indietro adesso Per contornare, no adesso devo fare subito Quanti tempo è scaduto? No no no, che tempo è scaduto? Smettila Hai detto che non c'era il tempo Non c'era il tempo, non è, non pare così Da ora c'è No, tre, due Due, uno, vai in alto No, no devo fare la firma Ah ok, no l'ho fatto, l'ho fatto Io no Allora, questo è il mio Pronta? Questa è come firmi arrabbiata Che è sta firma? E basta, quanto è lungo sta firma Che stai scrivendo? L'ho fatto, l'ho fatto un libro Ah che bello Quanto è simpatico il tuo personaggio Ma il tuo è venuto meglio Ma anche il tuo è molto bello Mi piace Allora Amy, questo è il mio Metti il tuo Votate Uno Oppure due Ma tu avevi il foglio più grande Amy, abbiamo un minuto per disegnare il pipistrello Tre, due, uno Al suonare della campanella Mani in alto Via Allora C'hanno le orecchie Amy Come va la vita? Non ti distrago così perdi No, come va la testa Schifo E vedi che suona la campanella E vedi che a suonare la campanella devi poggiare No, aspetta, no, brutto Ricordati di fare la firma Aspetta, no È brutto Non bisogna anche ripassarlo No, sbagliato Ma che... Vabbè, ormai è andata Con la fretta viene brutto Si sa Non mi piace È brutto Che mi manca? Niente Devo fare la firma Mamma Veri Io non ho fatto la firma Non fa niente A me non mi interessa la firma Mi interessa il disegno Abbiamo finito Ma quindi tu sei riuscita a finirlo? Vediamo Questo è il mio La firma non ci interessa, eh È un optional Ah, che bello il tuo Amy È più simpatico del mio Perché tu li fai sempre simpatici? A me vengono sempre più amatici Ah, che è più simpatico Dai, abbiamo vinto entrambi No, che è più simpatico Ecco, le ciglia Vediamo Le ciglia Dai, abbiamo finito il tempo Va bene, se ci siamo riuscite entrambe Ok Va bene, solo che io ho messo la firma e tu no Però vabbè, te lo concedo È giusto Aspetta Voglio fare un round di bonus Che deve durare questo bonus? 30 secondi Io conto 3, 2, 1 Che dobbiamo fare in 30 secondi? Kira Kira però vestita di Halloween Kira vestita di Halloween Sotto Sotto al vampiro Kira vestita di Halloween sotto al vampiro Sì Allora, questa è Kira con le sue orecchie appuntite Questa è la faccia di Kira Sempre molto felice Eccola qui Con quel suo musino arrabbiato Con questi suoi baffi Poi lo facciamo gli occhietti rotondi Questo è il nasino Che gli manca? Le ciglia Boh Ha le ciglia? Sì Facciamo le zampe Queste sono le zampe Quattro Vediamo Aspetta Eh, finiti i 30 secondi, mamma mia Io ho finito Allora, ecco Gli ho fatto anche degli spintoni qua Questa è la mia Kira Sembra più una volpe Guardate, aspetta Ecco, lo mettiamo così Vediamo il tuo Questa di KD Emi È molto più carinella Quella mia è molto più seria Vediamo Sembra una volpe Perché è un cane Sì Allora È una volpe Ma chi è una volpe? Bello Ok, aspetta Ti voglio aggiungere una cosa Mettiti più giù Emi Così salutiamo Anzi Voglio aggiungerti una cosa Aspetta, aspetta Ma quante volte suona sta campana Oh dai, basta Allora Emanuela Aspetta Nel frattempo che tu finisci Noi invitiamo i nostri amici A iscriversi al canale Se non l'hanno fatto Se questo canale Se questi video vi piacciono Lasciate like E commentateceli Noi vi aspettiamo in un prossimo video Magari c'è anche Natali Se è guarita Speriamo Ok, Emanuela Facci vedere il tuo disegno Così salutiamo E qua giù Un po' di cose più paolose Vediamo Ma dov'è? Tu l'hai fatto Solo un cane normalissimo Wow Quindi mi sa che Questa l'ho vinta Decisamente io Perché tu hai fatto Solo un cane Ciao a tutti Ciao